bentornati amici sul canale di torre dei maghi io sono gianluca e finalmente a distanza di quasi un anno sta per uscire il volume di magic the gathering della planet manga con cast all'interno ma andiamo subito a vedere nel dettaglio di che cosa stiamo parlando panini ha annunciato quasi un anno fa l'uscita di un manga uscito già in giappone che all'interno contiene delle carte edizione limitata per il manga che hanno fatto la storia di magic e adesso vi farò vedere nel dettaglio tutte quante le varie carte attenzione però questo questo prodotto questa storia di cui di cui si parla il manga è proprio una storia stile yugioh ovvero una serie di ragazzi che giocano entrano nella community di magic giocando a questo gioco e si evolve praticamente con la con la loro vita mentre giocano magic a differenza di questi altri albi che non sono manga bensì americani quindi copertina diversa stile completamente diverso questo che ho tra le mani e l'omnibus perché prima uscì in in blocchi più piccoli la panina lo fa spesso soprattutto con la marvel e con la dc di far uscire prima gli albi separati e poi far uscire caso mai nomi bus un pochettino più prestigioso o anche più carino caso mai da avere in libreria questo quindi magic invece parla della storia della loro del gioco di carte nel senso che qui abbiamo i planes walker infatti magic nasce di fa dove eravamo dei eravamo dei maghi e il grimorio che prima le parenti del libro è il mazzo infatti se vedete si chiama spesso nelle vecchie carte il fatto di scasta a due carte dal grimorio perché in realtà il se vedete anche il dorso della carta a magic il mazzo in realtà era un grimorio di magie perché noi eravamo maghi con gli anni però questa cosa è cambiata e noi siamo diventati a tutti gli effetti di planes walker ovvero noi vaghiamo tra i vari piani che sono le le serie di magic quindi questo albo qui questa serie di abbi che in realtà ce ne ce ne sono anche altri che trovate naturalmente su manga comics market torre della ghi cometteria parlano della lord di vari place walker quindi l'ideana vs jace comunque tutto quello che è accaduto nel mondo è molto carino pure la storia di jugend dei vari draghi fica però parla della storia di magic gathering invece quello che uscirà la settimana prossima per esattezza il 12 settembre è un manga che parla di ragazzi che giocano a magic e la particolarità di quest'albo e che all'interno ha delle carte speciali solo per queste panini hanno sperando come sempre di essere di stato utile per la scelta dei vostri acquisti vi ricordo l'importanza dei preordini e infatti ringraziamo tutti i ragazzi e ragazze che hanno effettuato i preordini di questo articolo perché ci hanno permesso non solo di evitare che non trovasse mai questo articolo ma soprattutto di quantificare il prodotto in sé quindi che cosa dire grazie a tutti ricordo il link li mettiamo in descrizione e adesso piccolo angolo di odio e dissing che ci siamo conservati per la fine del video allora panini ha dichiarato questa uscita un anno fa e panini franet manga è riuscita comunque a sbagliarne il prezzo perché su anteprima la messa a 7 90 e invece poi la vendita è a 9 90 quindi signori ma come è possibile sempre se ci stanno marciando talmente tanto che sta diventando imbarazzante proprio come concetto allora quindi il prezzo sbagliato lo abbiamo aggiornato adesso tutti quelli che hanno effettuato il preordine riceveranno un messaggio dove chiariremo questa piccola discrepanza di prezzo dettata da planet manga che panini che non è in grado minimamente di fare una cazzo di cosa buona signori ci rivediamo qui negozio a formi a torre maghi funetteria o online su manga comics market ciao e grazie per averci seguito